Se stai avendo difficoltà a eliminare i file di installazione, la copia che ha conservato Windows di 8,63 GB di aggiornamenti, quindi solamente una copia conservata sui file temporanei, noi possiamo eliminare questi file per liberare anche un po' di spazio sul disco locali, come puoi vedere ci sono 138 GB disponibili e mi stanno anche occupando spazio. Quindi in questo caso andiamo direttamente sulla pulizia disco, vai qui sopra, vai a scrivere pulizia disco, vai su unità C, calcolo in corso, pulizia file di sistema, sempre disco locale C, una volta fatto ed ecco qua pulizia di Windows Update, ovviamente se devi eliminare anche qualcos'altro metti la spunta sopra e fai ok. Ora, una volta così fatto il caricamento sulla pulizia disco e una volta eliminati così tutti i file, andiamo direttamente sull'esplora risorse file, vediamo anche se ha liberato anche un po' di spazio. Se vado su questo PC ed eccolo qua, disco locale C ed erano 138 GB, ora sono 146 disponibili su 222. Quindi, stiamo riusciti così a eliminare i file temporanei di Windows Update, quindi quella copia che ha conservato Windows, li abbiamo eliminati definitivamente. Quindi, se hai problemi, puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!